Vediamo un po' come dirla. Oppure non la diciamo neanche. Non la diciamo neanche, dai. Come lo presenti? Vai tu Fede, parli solo di una camera. Venite qui. No, io parli che tu palleggiamo e tu fai una cosa. Crossbar Challenge 11 Designer, titolare, fotografo, videomaker Portiere numero 1 Portiere numero 2 Allenatore Ok, la portiamo a casa. Io sono il più scarso di tutti Ah, collaboratore 1 Sono il più scarso di tutti Proverò, io scommetto su Tade Io scommetto su Valerio Filippi perché è quello che è da due ore che sta calciando Io scommetto su Luca Tadeo perché c'ha il piede Inizio 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 Ok, da cominciare Oh Oh 1-0 Valerio E Allora Allora! Siamo! Ci sei nell'inquadratura? No, non lo so! Aspetta, aspetta! Eh, VAR camera! Vai! Jacopo secondo giro! Ma si è allenato, si è allenato! Una liga è schifo! Ho già visto come va a finire! Stai gli scendisca tua vita! E Jack, Jack, passami una! Vieni qua a fare risultanza! E Jacopo la prova! E vabbè! Io sono finito ragazzi! State dal limite! Io dal limite! Giacomino ancora fermo al palo! E i ragazzi sono all'ultimo livello! Valerio e Jacopo, via! Eccolo! Mamma mia! Io! 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 Forse! 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 No! No! Vai! Facciamo regolarità! Se va di là, torna indietro! Vai! Mi piace questo! Se va di là, torna indietro! Se va di là dove? Si! Ah si va proprio di là! Ah vabbè ok! Si sta! Mi che la piglia! Oh! Oh! Vai! Vai! Scusate! Non è stato fatto volutamente! No no! Non è stato... Non l'abbiamo fatto per... Per farlo via via! Perché per fargli fare... No! Non l'abbiamo fatto per lui! Non l'abbiamo fatto perché dopo lo mette sul suo profilo! Like! No! 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 Non! No! No! Il mio picco? Dai dai... Potrebbe essere eh! Ma dai giudici di porta! Aspetta! Vediamo! Aspetta! Aspetta! Questa che gli dai soldi! Pensate... Okay mafia... Vabbè Gianni è finotto Dai Fede Di solito non va quello che ha subito il rigore a vedere il bar Vado via, vado via, vado via Faccio l'alba, giustamente Qui per farlo sarà per risultanza, ve lo dico eh Eh no, dai Eh adesso l'owner Che fine fa? C'è, c'è Dove tira il vento? C'è vento sul serio, non è una mincata Un po' corta Il calcio è strano, c'è più culo che anima Minchia oh Guarda Fede che sta qua fino a domani Vabbè Nooo Eh sì Viva Viva Lo sto qua fino a domani io mi sa eh Questa va Forte 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 Oh È sempre là Bella Bella Bravo Bravo Stiamo giocando in ultimo posto Che schifo Che schifo Tu devi allenare penso a te Sì penso a te come siamo messi Sì Arrivo ultimo anche oh Allora poi tra l'altro tu hai l'aggravante che io sono il portiere più scarso con i piedi dell'eccellenza del Veneto Sì 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 Bello Eccola Sì Sì Non sono ultimo Posso pareggiare però Ah è vero Fermi tutti Vero Vero vai Ma no Ma no Ma in Italia non cazzo la prima Fede del Valle Che il miglior regista avrebbe Scrito un Finale No dai Dai Fede Ma cosa scusate io ho visto che gli hai fatto Basta è finita Eh no dobbiamo vedere chi cazzo perde tramite Eh è vero chi perde paga il pranzo dopo Uff do andare a casa Sappiamo che va a finire uguale Pago il evento Voglio vedere come reggi la pressione Dai Fede È lunghissima Sì Pago il evento Bene Ci hanno giocato l'ultimo posto Dai bravo Paghi tu In realtà avevo perso comunque Ah sì Perché io prima di te Quindi quando ho preso la traversa Basta Ecco perché gli facevi shhh Tra l'altro ho anche una gran fame oggi Schiediamo così Vincitore E vinti Jacopo The outsider Sottotono 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 Un po' freddo Vabbè io era scritto ragazzi Però vabbè L'importante è divertirsi E niente È stato un piacere Alla prossima Attola T password In carico Assicurato Un posti Un tasto Un tuna Un up Un